Amici dei senza giacca della pancia del tifoso, commento di Juventus Inter 1 a 1. Risultato giustissimo, poco da dire. Una Juve meglio di quelle, una delle migliori Juve della stagione in relazione all'avversario che incontravamo. Un bel gol di Blauvic, ce n'era bisogno soprattutto per lui con l'assist di Chiesa. Purtroppo pareggio quasi immediato da parte dell'Inter con una bella azione Toram-Lautaro, azione nella quale purtroppo si è visto che i nostri due centrali sono degli ottimi giocatori ma non sono dei campionissimi perché Bremer non ha tenuto il passo di Toram, e Gatti si è fatto prendere il tempo da Lautaro che ha deviato in porta. Lo so, magari possono sembrare dettagli, ma se sei stato abituato per anni a vedere Chiellini e Barzagli queste cose ti saltano subito agli occhi e sono punti da migliorare, migliorare. Sarebbe stato bello oggi chiudere la giornata al primo posto scavalcando l'Inter. Una giornata, una domenica speciale, ricordiamone, a quale nel motociclismo Bagnaia si è confermato campione del mondo e soprattutto l'Italia di tennis di Yannick Sinner è tornata a vincere la Davis dopo 47 anni. Al termine di questa giornata sarebbe stato perfetto che la Juve da parte nostra fosse tornata in testa della classifica, ma anche con un gol distinco da parte dell'esordiente Caviglia. Sarebbe bastato questo. Non è andata così, va bene, risultato giustissimo, lo ripeto. Juve-Gagliarda, Inter squadra solidissima, non lo scopriamo oggi. Siamo ancora a due punti della vetta, in corso per lo scudetto e a nove punti dalla quarta. Quindi calma che abbiamo tutto il campionato davanti per toglierci un sacco di soddisfazioni. Venerdì a Monza, dove dobbiamo cominciare ad andare a riprenderci i sei punti che abbiamo lasciato l'anno scorso ai ragazzotti di Galliani. Forza Juve, fino alla fine.